Mi è stato segnalato così questo errore del DXG Arrow Device Remove direttamente sull'applicazione FVM. Ovviamente sul computer faremo delle modifiche ai valori sul Regedit e poi dopo faremo un'installazione da capo dei due driver per la scheda grafica. Quindi in questo caso come puoi vedere in descrizione ti ho lasciato un percorso file del Regedit che bisogna copiare. Ovviamente facciamo copia e andiamo direttamente sul nostro Regedit editor del registro di sistema. Può essere che dopo gli ultimi aggiornamenti di Windows qualcosa è cambiato sul computer e non riesce più ad avviare FVM. Quindi eseguiamo come amministratore il nostro Regedit e andiamo così a copiare quel percorso file e lo mettiamo qua sopra. Ora una volta fatto dentro graphic driver dobbiamo creare un nuovo valore di Word 32 bit chiamato TDR Level e impostato sul valore 0. Quindi dentro graphic driver fai tasto destro sopra nuovo valore di Word 32 bit e lo andiamo a chiamare TDR Level. Quindi TDR Level e fai invio. Li clicchiamo sopra e lo impostiamo come dati valore 0 e facciamo OK. Dopo che hai creato questo valore devi riavviare il computer e riavvi il sistema. Poi questo DXG error è legato anche tipo ad esempio che FVM non riesce più a trovare la sua scheda grafica nel computer. Quindi può essere che quando avvii il gioco non riesci a trovare la scheda grafica. Quindi basta che vai qua sopra e scrivi grafica impostazioni grafiche e ti porterà direttamente qua sopra su grafica. Facciamo aggiungi app desktop. Devi andare a prendere la cartella di FVM. Quindi se non riesci a trovare la cartella FVM qua dentro basta che vai qua e scrivi esegui. Dentro esegui scrivi %appdata % e facciamo OK. Dentro appdata vai in local. Scendi fino a giù fino a trovare così la cartella che si chiama FVM. FVM application data. Andiamo in bin. Dobbiamo prendere l'applicazione FVM. Quindi devi prendere applicazione FVM e la inserisci qua dentro. Quindi copi così questo percorso FVM, lo devi copiare e lo vai a mettere qua sopra. Applicazione. E fai aggiungi. FVM ed eccola qua. Ora come su FVM preferenza scheda grafica. Ci vai a mettere la tua scheda grafica. O metti prestazioni elevate o risparmio di energia oppure lascia la scelta a Windows. Attivo e basta. E chiudiamo qua. Poi bisogna installare gli ultimi driver di DirectX Runtime. Sia per i driver di AMD che per DirectX. Quindi va scaricato web install DirectX and user Runtime. E fai scarica. Ci clicchiamo sopra. Facciamo sì. Accettiamo il contratto. Facciamo avanti. Non installare questo Bing Toolbar. Facciamo avanti. E installerà gli ultimi componenti necessari che servono al tuo computer. Poi può essere un problema legato anche alla compatibilità del tuo sistema operativo. Ed eccoli qua. Tutti i VCRadist che ti servono per avviare le applicazioni correttamente. Vai su Download. Ed eccolo qua. Scarichi quello che ha la più percentuale. Quindi quello più usato. Qui dice tedesco. Però io ti consiglio di mettere la versione inglese. Quindi vabbè. Prendiamo questa qua. E la scarichiamo. Come puoi vedere. Al posto di aspettare il download qua. Qui c'è scritto installa tutto. Quindi te lo zoomo un attimo. Installatutto.bat. Basta che lo esegui come amministratore. E ti installerà tutti i VCRadist. Se io adesso vado sul pannello di controllo. Disinstalla un programma. Ed eccoli qua. Io ho installato tutti i VCRadist. Tutti. Li ho installati tutti. Per non avere problemi all'avvio delle applicazioni. Poi se vai su Verifica disponibilità. Aggiornamenti. Dobbiamo entrare in Windows Update. E forzare gli aggiornamenti. Ed eccoli qua. Vai su Opzioni avanzate. Ottieni aggiornamenti per altri prodotti Microsoft. Aggiornami. Scarica aggiornamenti con connessione e consumo. Tieni tutto attivo. Per forzare gli aggiornamenti. Poi abbiamo così i driver NVIDIA. Mi raccomando scaricare l'applicazione NVIDIA App. Vai direttamente su NVIDIA App. E vai su Driver. Proprio oggi sono usciti così gli ultimi aggiornamenti. Quindi abbiamo gli ultimi aggiornamenti usciti per la nostra scheda grafica NVIDIA. E vanno scaricati e installati i nuovi driver. Per AMD invece c'è l'applicazione Soft Adrenaline Edition Application. Quindi va scaricato o installato pure questo. Come puoi vedere qua sopra tu puoi configurare i tuoi giochi. Puoi configurare la grafica anche al di fuori del gioco. Poi per quelli che usano il pannello di controllo di NVIDIA. Eccolo qua pannello di controllo di NVIDIA. Va disattivato l'anti-alasing. Quindi come funziona? Vai su gestisci le impostazioni 3D. Vai su impostazioni programma. E vai aggiungi. E dobbiamo mettere l'applicazione 5M. Eccola qua. Ci andiamo a mettere 5M e facciamo apri. Ed eccola qua. Ora vai su anti-alasing. Metti disattivato. Anti-alasing. Metti disattivato. Tutti anti-alasing questi qua. Tutti disattivati. Tutti. Questo va bene. Disattivato. E basta. E scheda grafica. Ci fai mettere la tua scheda grafica. CUDA. GPU. Tutte. E fai applica. E applichi così le impostazioni per la scheda grafica. E chiudiamo qua. E infine abbiamo pannello di controllo. Disinstallo un programma. Attivazione e disattivazione delle funzioni di Windows. C'è un componente che si chiama componenti legacy. Come puoi vedere si è buggato di nuovo. Quindi te lo dirò a voce. Ci sarà una cartella che si chiama componenti legacy. Eccoli qua. Più. E metti da record player. Lo tieni attivo. E facciamo ok. Una volta attivato il componenti legacy. Farà. Partirà un aggiornamento. E dopo di che. Dopo che tu hai fatto tutte queste installazioni. Tutti questi driver. Tutte queste cose qua. Fai un bello riavvio del sistema. E basta. Mi raccomando non dimenticarti il reggit. Poi cosa abbiamo più. Abbiamo. Questo l'abbiamo fatto. Riavviare il computer. Abbiamo la diagnostica della RAM. Diagnostica memoria di Windows. Diagnostica memoria Windows. Ed eccola qua. Riavvia ora e individua eventuali problemi. Scelta consigliata. Se tu clicchi questo. E riavvi il sistema. Ti uscirà una schermata blu. Dove partirà una scansione. Farà arrivare al 100%. Se ti hai trovato qualche errore. Te lo risolverà. E dopo. Si riavvia di nuovo il computer. E ti porta su Windows. Quindi riavvia ora. Individua eventuali problemi. Questo l'abbiamo fatto. A volte. Un'installazione corrotta. Può causare errori. Provare a installare 5M da zero. Se andiamo su app data. Va in 5M application data. Va in bin. No. Dobbiamo andare in data. Devi cancellare le cache. Cancella le cache. E rientra di nuovo su 5M. Se no. Cancella questa cartella di 5M. Elimina. La cancelli definitivamente. E poi dopo. Reinstalla da capo 5M. Più di questo. Non so cosa dirvi. Abbiamo quasi fatto. Molte cose. Molti passaggi. Installazione dei driver. Componenti necessari. Per qualsiasi cosa. Puoi commentare sotto il video. Se questo video è stato utilissimo. Puoi iscriverti. Lasciare like. E noi ragazzi. Ci vediamo. Ad un prossimo. Tutorial. Ciao. Ciao.